La liturgia di questo giorno ci fa celebrare la festa di Santa Maria Maddalena e oggi la ritroviamo davanti al sepolcro che piange perché hanno portato via il suo Signore. Ma ecco che appare Gesù che le chiede donna perché piangi e lei risponde hanno portato via il mio Signore. Ma ecco che allora Gesù si svela a lei chiamandola per nome Maria e lei lo riconosce e lo chiama Rabbunè che significa maestro, riconosce in lui colui che ha dato senso alla sua vita, colui che ha dato una svolta alla sua vita, proprio come dovrebbe capitare anche a ciascuno di noi nel momento in cui incontriamo il Signore nella nostra vita. Con lui una volta che lo abbiamo trovato non possiamo più farne a meno e allora chiediamo al Signore che ci accompagni in tutta la nostra vita e sia sempre al nostro fianco. Grazie 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 Grazie